87 positivi nella giornata di ieri sono i dati aggiornati sul contagio fornito dall'unità di crisi della regione Campania. I tamponi effettuati sono stati 1.667. Ad oggi i positivi in Campania sono 3.604 su un totale di 35.448 test eseguiti. All'ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati ieri 271 tamponi di cui 4 positivi. Analizzando i dati complessivi emerge che in Campania ieri ci sono state più guarigioni. In queste ore l'attenzione è tutta rivolta ai controlli di chi ha deciso, complice i giorni festivi e il clima tipicamente primaverile, di raggiungere chi le ha le secondo case al mare o in campagna oppure raggiungere parenti ed amici nonostante i divieti e i casi purtroppo sono tanti. Sono 5.000 gli uomini schierati in tutta la regione per i controlli. In costiera amalfitana posti di blocco lungo la statale e all'uscita autostradale di vietri sul mare. Positano ed amalfi sono praticamente blindate così come gli altri centri della costiera. La Capitaneria di Porto di Salerno ha attivato controlli anche via mare. A Palinuro in vista di possibili arrivi il sindaca di Centola, Carmelo Stanziola, ha chiuso le spiagge e la Polizia Municipale sta effettuando controlli con un drone, vietato anche l'accesso ai percorsi, ai sentieri, alle infrastrutture pubbliche e private che insistono sul litorale del Comune Cilentano. Controlli rinforzati in penisola sorrentina, esercito in campo a supporto di polizie e carabinieri con l'impiego di droni e motovedente da parte delle forze dell'ordine. Si punta a dissuadere i proprietari di seconde case a raggiungere la costiera e a scoraggiare anche quanti vorrebbero fare una gita di qualche ora. Controlli specifici sono previsti sulle spiagge e lungo le coste. A Sorrento sono in volo due droni per i controlli. Fermi oggi e domani i treni della Circus Vesuviana. Per la Pasqua e Pasquetta blindate non si sbarca a Ischia, Capri e Procida. Capri si è blindata da giorni con le ordinanze dei sindaci di Capri ed Anacapri, Marino Lembo e Alessandro Scoppa. La tentazione di trascorrere Pasqua e Pasquetta all'aperto è stata troppo forte e anche molto cara per una famiglia napoletana di sei persone. E' scattata la sanzione di 600 euro a testa, oltre che l'obbligo di quarantena per 14 giorni e l'ordine di tornare a casa a Napoli. Sono stati i vigili urbani di San Martino Valle Caudina durante un controllo proprio in vista dell'arrivo di turisti per le festività pasquali a sorprendere la famiglia diretta verso la seconda casa a Pietrastornina in provincia di Benevento. Grazie 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 a tutti